Bene, benvenuti a tutti, vi ringrazio di essere presenti, sia i colleghi che le autorità, i tempi dell'evento saranno molto ritmati, quindi partiamo subito. Naturalmente ringrazio tutti per la presenza, ma un ringraziamento particolare va alla Presidente della Camera, alla nostra terza carica dello Stato onorevole Boldrini, al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio onorevole Boschi. Al via il G7 dell'Avvocatura, un evento di portata internazionale che si svolge sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio italiana. Oggi si ritrovano a Roma le avvocature dei sette Paesi membri del G7 per discutere di diritto alla privacy, diritti individuali e linguaggio dell'odio. I saluti iniziali sono stati portati dalla sottosegretaria al Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi, qui in veste non solo di rappresentante del Governo, ma anche di avvocato, la quale ha affrontato il tema del linguaggio d'odio, soprattutto nella politica. Buongiorno, ringrazio innanzitutto il Consiglio nazionale forense e il Presidente Mascherin per l'invito ad essere con voi questa mattina in una triplice veste di rappresentante del Governo per portare i saluti anche a nome del Governo ai presenti come avvocato e anche come donna e quindi un triplice ringraziamento e apprezzamento anche per l'argomento che avete scelto per i lavori di questa giornata. I social media sono anche un'arma politica, ci sono dei veri e propri professionisti della comunicazione social e dell'hate speech in chiave politica e possono anche influenzare campagne elettorali. Spesso i toni che si usano in campagna elettorale poi all'esito finale indeboliscono comunque le istituzioni, qualunque sia l'esito, anche rispetto poi ai cittadini che devono rappresentare. E abbiamo esempi concreti, abbiamo visto come il diffondersi anche di fake news, di false verità, possa incidere nelle dinamiche politiche, nelle competizioni elettorali. Vorrei ringraziare per l'invito e soprattutto esprimere l'apprezzamento per l'organizzazione di questo evento al Consiglio Nazionale Forense appunto nella persona poi dell'avvocato Mascherin. Esprimere l'apprezzamento perché questa è un'iniziativa che coglie uno degli aspetti della nostra presidenza del G7 che abbiamo toccato ma che ha bisogno appunto di un approfondimento e quindi è particolarmente benvenuta in questo contesto. A seguire il keynote speech della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che è da sempre in prima linea contro il linguaggio dell'odio, la quale ha presentato il lavoro di due commissioni permanenti alla Camera da lei istituite che si occupano una del web e una proprio del linguaggio dell'odio. La prima commissione ha prodotto il 28 luglio del 2015 questa dichiarazione, una dichiarazione sui diritti e i doveri di internet. Questa dichiarazione ha la pretesa di avere una portata costituzionale. sono i principi fondativi, la libertà dell'accesso alla rete, la tutela dei dati personali, il diritto all'anonimato ma anche il diritto all'oblio. In questa carta ci sono dei punti che io ritengo per voi siano molto utili e importanti per lavorare in questo ambito della tutela dei diritti al tempo dei social media. E' una commissione mista, fatta di deputati ed esperti e vorrei ricordare qui che i lavori della nostra commissione per un bel pezzo sono stati coordinati dal professor Stefano Rodotà che ci ha lasciato purtroppo recentemente. La seconda commissione invece è quella sui fenomeni di odio. Questa commissione l'ho voluta dedicare a una giovane deputata laborista inglese uccisa dall'odio politico, Joe Cox. Joe Cox era giovane, aveva 42 anni, voleva che il suo paese rimanesse in Europa e credeva in un mondo inclusivo. Joe Cox è stata perseguitata sulla rete e poi è stata uccisa. Il presidente del CNF, Andrea Mascherin, ha descritto il tavolo internazionale come un punto di contatto eterogeneo per prospettive culturali e aspettative strategiche. Sappiamo come l'avvocatura sia davvero un corpo unico, davvero una realtà globale, davvero una rete, però rete positiva, rete basata sul diritto, sulla tutela dei diritti e soprattutto sulla tutela dei diritti dei più deboli. Noi ci siamo resi conto che probabilmente in questo momento il tema centrale per la tenuta della democrazia e per la crescita delle società passa indubbiamente per tutto quello che rappresenta la rete. La rete è sicuramente uno strumento straordinario, ma è anche uno strumento che male è utilizzato, può davvero essere estremamente pericoloso, soprattutto per il futuro delle nostre società, soprattutto per quello che in qualche maniera comunicano e insegnano alle nuove generazioni. Io credo che ogni epoca abbia il suo diluvio universale, in tutti i miti, in tutte le religioni c'è un diluvio e c'è un'arca. Ogni epoca probabilmente ha, al di fuori delle metafore, avuto il suo diluvio. Dobbiamo prendere molto seriamente il tema del linguaggio d'odio, perché questo può essere e probabilmente è davvero, se non lo controlliamo, se non interveniamo, questo è davvero il diluvio della nostra epoca. Un diluvio che può travolgere tutte le dighe, le dighe di resistenza all'odio, di resistenza alla integrazione, di resistenza ad ogni forma di discriminazione, travolgere queste dighe e soprattutto travolgere la primazia del diritto. Noi siamo avvocati, noi abbiamo un grande vantaggio sulla politica, che è quella di poter adiuvare, di stare al fianco della buona politica, perché la buona politica sicuramente c'è, per fortuna che c'è, ma non abbiamo bisogno del consenso. Noi possiamo fare anche campagne che possono apparire impopolari, assumere prese di posizioni che non portano consenso e batterci veramente per la riaffermazione del diritto e la centralità dei diritti. Ecco, questa iniziativa, questa giornata nasce proprio da questa valutazione. I colleghi internazionali di Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Giappone e Germania hanno presentato le rispettive legislazioni in merito alla tutela dei diritti dei cittadini sul web e contro l'odio in rete, nell'ottica dell'esercizio della difesa e della garanzia delle tutele costituzionali. Al termine, tutti e sette i rappresentanti delle avvocature del G7 hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta finale, che di fatto istituzionalizza il G7 dell'avvocatura come un luogo di idee, con l'obiettivo futuro di fissare una strategia condivisa. Dal 25 maggio del 2018 le nuove norme europee si appliceranno a chiunque offre beni e servizi in remoto in Europa o profila persone e questo porterà Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, Whatsapp e altri a diversificare con grande fatica le loro policies e quindi con rispetto pieno di quello che può essere il regime applicabile nei paesi in cui sono largamente stabiliti negli Stati Uniti d'America. Il 25 maggio del 2018 la cosiddetta accountability diverrà una realtà. Tutti i soggetti, compresi gli over the top, saranno richiesti di fare di più, non semplicemente di rispettare una regola che abbiamo chiamato del notice and action, del notice and take down. Facebook e Google sapranno che un certo contenuto illecito deve essere rimosso. Oggi lo fanno in base a un atto volontario, lo fanno in base a codici di condotta e ad altre azioni di questo tipo. Domani dovranno spendere molti più soldi. Tra i relatori del panel pomeridiano è intervenuto anche il primo presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio. Canzio ha assicurato l'impegno della Suprema Corte in merito alle problematiche connesse a internet e ai social network e ha riconosciuto il valore del contributo dell'avvocatura, lanciando la sfida di ripensare il nostro ordinamento per riallinearlo con i tempi. Rimane il fatto che noi trattiamo la postmodernità con strumenti tradizionali e arcaici, risalenti 595 al codice penale, al 1930 e il 2043 al 1940. Secondo il primo presidente, il problema dell'odio ai tempi del web va considerato su scala sovranazionale perché si tratta di un fenomeno sconfinato e non imbrigliabile nelle singole legislazioni nazionali. Infine, al termine dell'intervento, ha citato un passo del romanzo 1984 di George Orwell. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. In quel momento tutti intonarono una sorta di salmodia lenta, ritmata, solenne, GF, 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 un murmure sordo, un certo senso selvaggio, per quasi trenta secondi, un rituale che si preva, si ripeteva quasi tutte le volte. Si trattava di un inno alla saggezza e la maestate grande fratello, ma soprattutto un atto di auto e penosi, di un volontario ottundimento della coscienza. Winston avvertì un gelo alle viscere. Durante i due minuti d'odio non si era sottratto al delizio generale e aveva cantato come tutti gli altri. George Orwell, 1984, scritto 70 anni fa. Ho concluso, grazie. I tradizionali mezzi di comunicazione e internet hanno una potenzialità offensiva alla quale è assai difficile porre riparo e non di lato vengono usati con intenti e con modi criminali, come ad esempio avviene quando si rifondono notizie false, se ne è parlata ampiamente, per screditare persone che poi non di lato rimangono vittime di vere e proprie campagne aggressive prima di riuscire a ristabilire la verità. Verità che comunque difficilmente riesce a sovrapporsi interamente alla falsità e ad avere la sua stessa diffusione. L'idea generata dalla falsità non si cancella mai del tutto e la notizia falsa generalmente sopravvive su internet per ricomparire in ogni momento annullando il diritto all'obbligo. In questi casi si tratta di azioni criminali che a me sembra abbiano poco a vedere con la libertà di espressione intesa come libertà di esprimere le proprie opinioni e di informare. Così come non credo siano garantite dalla libertà di espressione quelle espressioni estreme che trasmodano, se ne è parlato molto, nell'incitamento all'odio, alla violenza, nell'intolleranza razzista, xenofoba o religiosa. Nei casi invece che rientrano nella libertà di espressione si pone la questione del se e in quali limiti possa giustificare la lesione e il patrimonio morale di un'altra persona. Considero molto importante la scelta di orientare questo confronto, questa discussione per il primo G7 della vocatura sul tema della protezione dei dati, quale è presupposto dell'effettiva tutela della persona. Non era affatto scontato e una grande intuizione mi sia consentito di dire rispetto alla generalità del dibattito che sia nell'ambiente giuridico che in quello politico abitualmente viene sviluppata. A chiudere l'evento ha preso la parola il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. Il Ministro ha sottolineato come il G7 abbia evidenziato il ruolo globale dell'avvocatura nell'affrontare le sfide giuridiche del futuro. Orlando ha aggiunto che il mondo della rete non può più essere considerato diverso dalla realtà, della quale ripropone e anzi accentua le dinamiche, quelle virtuose di opportunità, ma anche tutte le sue fragilità. Credo di poter affermare alla luce tanto più di questi lavori e dei lavori di questi mesi che la nostra sia stata una felice intuizione. Il contributo dei rappresentanti delle sette avvocature del G7 ha mostrato attraverso un impegno costante rappresentato nei country papers e attraverso la dichiarazione finale che la diplomazia degli ordini e delle avvocature ha veramente un ruolo centrale nel promuovere le collaborazioni tra sistemi nazionali su alcune sfide sovranazionali, come sono per definizione quelle legate alla rete e al contesto digitale. Infine, il guardasigilli ha indicato anche la necessità di responsabilizzare i soggetti privati, perché la rete non può più essere un non-luogo dove le regole rimangono sospese. I nostri ordinamenti si basano su patti sociali. La democrazia sulla rete e la circolazione delle informazioni ancora non è sorretta da un patto tra i soggetti che in qualche modo abitano la rete. E questo è un tema che va affrontato, naturalmente che non può essere risolto semplicemente con una statuizione. È un tema che chiama in causa l'esigenza di costruire, vorrei chiamarli, dei corpi sociali virtuali, che siano in grado di giocare lo stesso ruolo che i corpi sociali nel secolo scorso hanno saputo giocare nella costruzione delle democrazie. Allora, nel ringraziare il Ministro Orlando per l'intervento, direi assolutamente esauriente e per nulla reticente su nessuno degli aspetti delle problematiche del tema trattato, nel dichiarare che ha chiuso questo primo evento delle sette avvocature, ringraziando i colleghi delle altre sei avvocature, anche a testimonianza della gratitudine per averci accompagnato verso questo evento, averlo favorito, consegno al Ministro Orlando la dichiarazione oggi sottoscritta dalle sette avvocature. Credo che sarà uno dei bei ricordi della sua esperienza di Ministro che naturalmente continuerà molto a lungo ancora. Bene, grazie a tutti e ci vediamo al G20. Grazie.